Nonostante il tasso di positività aumenti in Sicilia, per ciò che riguarda la provincia di Caltanissetta c'è un decremento e tuttavia sono i risultati afferenti a domenica, il numero dei tamponi ovviamente diminuisce. 247 sono i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 85 pazienti di Gela e 49 di Caltanissetta. Per ciò che riguarda il complesso dei positivi in tutta la provincia, 4060 sono i positivi in quarantena domiciliare, rimane invariato il numero dei pazienti ricoverati, ovvero 43, il reparto di terapia intensiva è ancora chiuso. Sono 942 i positivi in quarantena domiciliare a Caltanissetta, 10 sono i ricoverati. Sono invece 1.353 i positivi in quarantena domiciliare a Gela, sono 14 ricoverati. In questo momento tutti i paesi della provincia hanno dei casi di cittadini positivi. Il paese con il minor numero di positivi è Bonpensiere, ha un solo positivo, il paese con il maggior numero di positivi è Gela.